Allora per fare la pasta frolla ci vuole un chilo di farina, 4 uova, 300 g di margarina, 400 g di zucchero, un limone grattugiato oppure l'aroma di limone va bene lo stesso e un lievito in bustina, il lievito pane degli antili e un pizzico di sale, messi tutti gli ingredienti e vi impastate bene bene, una pasta frolla perciò non va impastata tantissimo, perché se no il calore delle mani va a far sciogliere tutto. Lo mettiamo sull'espianatoia e continuiamo ad impastare. Lo mettiamo sull'espianatoia e continuiamo ad impastare. La pasta frolla raffredda. Ora mettiamo sull'espianatoia e continuiamo ad impastiare. I till large lo d conserva, non lo mettiamo sull'espianatoia. Il slettate sul piozzare in piozzare prodigliamo. Sì. 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 Ora la mettiamo in frigo così la pasta riposa un po' e iniziamo a fare la crema. Qui abbiamo messo a bollire mezzo litro di acqua e mezzo litro di latte. Adesso ci versiamo 250 grammi di semola, semolino. E facciamo cuocere per ogni 5 minuti, il tempo che si rapprende. Sì. 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 Ora lasciamo 700 grammi di ricotta. Dopo che abbiamo messo a bollire l'acqua e il latte abbiamo messo la semola, abbiamo messo poi lo zucchero, 400 grammi di zucchero, abbiamo lasciato un po' raffreddare. Poi aggiungiamo i canditi. A piacere! Poi incorporiamo le uova e quando mettiamo le uova, sono quattro uova, sono solo tuorli, li dobbiamo fare bene amalgamare in questo composto. Una fatica di arco di po', e poi aggiungiamo la pezzatura. Aggiungiamo il frattino, e quindi aggiungiamo questa ricotta. E poi aggiungiamo il frattino di ricotta. Poi mettiamo la cannella, che è un aroma. Adesso per l'ultimo incorporiamo la ricotta. Poi mettiamo la cannella, che è un pane. Grazie a tutti. Grazie a tutti. In precedenza le abbiamo messi nel frigorifero, la stendiamo. E mettiamo il dipieno nelle squigliatelle. E con un bicchiere, dipende dalla grandezza che si vogliono fare. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Continuiamo a riempire le squigliatelle. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.